Ok, allora abbiamo come assemblea, riapriamo il Maria de Laide, abbiamo deciso di chiamare un presidio davanti all'ospedale dopo un percorso che inizia a luglio, un percorso che è stato inizialmente di contrasto alla revisione piano regolatore che è ancora in alto, una proposta di revisione che prevede il cambiamento della destinazione di quest'area da ospedale a servizi generici privati e appunto una revisione che però non è altro che la continuazione di una politica che conosciamo bene, una politica che avanti da anni e che già prima di questa crisi evidentemente era una politica di compromissione enorme della cura e della salute di tutti i e di tutte, una politica appunto che ha visto l'Italia scendere a uno degli ultimi posti per la spesa pro capite per quanto riguarda la sanità e il Piemonte, ha visto il Piemonte chiudere dieci ospedali negli ultimi anni e quindi diciamo che questa situazione, partendo da questa situazione, è una situazione già criminale, non si poteva che evidentemente arrivare al disastro attuale, un disastro fatto di sostanze di ripiego sulle strutture private, sull'RSA che ha generato degli enormi disastri anch'esso, fatto di mancanza di dispositivi di protezione, di mancanza di personale, di mancanza di spazi e di mancanza di capacità da parte di chi governa questa regione e di chi amministra la sanità piemontese, una mancanza di capacità che ha fatto sì che in questa seconda andata non si fosse preparato niente, non fosse cambiato assolutamente niente ed è quello che dicono anche i sindacati e i lavoratori e le lavoratrici che stanno nel settore sanitario e con le quali ci siamo confrontati domenica, abbiamo fatto un'assemblea online e questa situazione assolutamente non l'ha abbandonata a se stessa ma governata in un modo criminale e allora di fronte a Cirio che facendo delle proposte per la spesa dei miliardi che arriveranno alla regione Piemonte tra le sue prime decisioni propone parcheggi milionari nelle stazioni sciistiche e nei paesi turistici delle Langhe di fronte a questo e a nessuna presa di posizione sulla ristrutturazione della sanità privata e della sanità pubblica noi non possiamo che incazzarci, non possiamo che incazzarci il quartiere, non può che essere assolutamente stupo e avere la misura colma di questa gestione, per questo siamo qua davanti, siamo qua davanti perché è un ospedale questo che è stato chiuso definitivamente nel 2016 e che ha un'ala nuova, nuova che non costerebbe quasi niente e rimetterla in funzione, siamo qua davanti perché è un ospedale che già per la chiusura aveva mobilitato moltissime persone del quartiere, moltissime lavoratrici e lavoratori che erano qua, che si sono abbattute per anni e sono state prima contrastate da Coder poi prese in giro da Chiamparino che avevamo promesso di tenere aperto l'ospedale e poi quando è stato salito dalla regione l'ha chiuso, quindi siamo qua perché questo scempio non ha a che fare solo con Cirio che è un incompetente e un criminale, ma ha a che fare con anni di speculazioni, di partisan, dal PD alla Lega, in lo stesso modo, anzi, forse anche in un modo più utito da parte della sinistra e quindi il quartiere è anni che richiede questo ospedale, è anni che sa che c'è una mancanza fondamentale di presidi di prossimità, una mancanza che ha fatto sì che non ci fosse prevenzione in questa ondata e che quindi è strettamente collegata alla situazione in cui ci troviamo, ma una mancanza appunto che è sulla pelle delle persone da anni, da anni che bisogna richiedere con tantissimo anticipo una visita specialistica, da anni che bisogna andare fino alle molinette per qualsiasi tipo di visita perché è stato centralizzato là, da anni che c'è mancanza di personale sanitario e quindi in questo momento cosa si fa invece di assumere altre persone sanitario? Si parla dei contrattini, si dice agli infermieri che devono svolgere il lavoro dei medici, ai veterinari che devono svolgere il lavoro degli infermieri, insomma, in fronte a questa situazione vergognosa è venuta assolutamente naturale mobilitarsi per chiedere la riapertura di questo ospedale che è almeno per una larga parte quasi nuovo, almeno una larga parte, allora ci facesse ad entrare a vedere com'è questo ospedale perché se non ci fate entrare entreremo noi e se non riaprite gli ospedali li riapriremo noi perché veramente abbiamo a che fare con delle situazioni criminali e di fronte alla criminalità, di fronte agli omicidi non possiamo che prenderci le cose che ci spettano, non possiamo che fare il bene dei nostri quartieri.